Sapevi che uno dei primi portieri a indossare i guanti è stato del Milan? No? Allora ascolta che te lo racconto. Si trattava di Enrico Albertosi, meglio conosciuto come Ricky. Aveva una particolarità, quella di indossare sempre una maglia gialla. Ebbene, il portiere rossonero è stato uno tra i primi a introdurre l'utilizzo dei guanti per bloccare meglio il pallone. Era la fine degli anni 70. Inoltre, Albertosi, proprio come oggi Mike Mignon con la maglia rossonera, è stato uno dei primi portieri a interpretare in maniera diversa il ruolo dell'unico giocatore non di movimento. Dava infatti indicazioni ai compagni grazie al proprio carisma e inoltre sapeva giocare molto bene anche con i piedi fuori dei pali. Inoltre, Albertosi è passato alla storia per una frase, ovvero il portiere non sbaglia mai, è sempre colpo degli altri. Mai il portiere deve pensare di aver sbagliato, così non si abbatte. Grazie. 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 Grazie.